Ovviamente l'opera che sta realizzando questa amministrazione è qualcosa che sta a cuore a gran parte dei patricani, perché questa rotatoria ne abbiamo discusso negli anni e si facevano solo chiacchiere, oggi finalmente siamo riusciti a fare dalle chiacchiere, sono venuti i fatti. È una rotatoria che serve soprattutto per la sicurezza e dobbiamo dire grazie a questa amministrazione. Per quanto riguarda la gloria siamo contenti come cittadini abitanti del luogo che dopo tanti anni, tante chiacchiere oggi veramente vediamo che la cosa è andata in posto. Il fatto che l'impegno di questa amministrazione è che sono riusciti anche da soli a realizzare questa grande opera. Erano anni che aspettavamo la soluzione di il problema delle quattro strade, la soluzione pare che sia stata trovata e sono cominciati i lavori. Questo sarà un abbellimento per tutta la contrata, sarà una soluzione del problema drattico. Avevamo detto in campagna elettorale che questa rotatoria sarebbe stata realizzata, finalmente sono iniziati i lavori, per cui c'è grande soddisfazione da parte dell'amministrazione di un incrocio, un'area che verrà completamente messa in sicurezza e riqualificata. Vi aspettiamo tutti per inaugurare l'opera quando verrà completata.